Una candidatura al servizio di Inverso, al servizio della città, gli imprenditori e i professionisti di Battipaglia a scendere in campo. Sì, ho deciso di scendere in campo perché ho sentito la forte esigenza di concorrere alle prossime elezioni comunali per dare il mio apporto e il mio sostegno ad un progetto serio, concreto, fattibile e che possa ridare slancio a una città che purtroppo, balzata agli onori delle cronache, per tante, tante cattive passate amministrazioni. La presenza di imprenditori, di professionisti, di persone non politiche, che valore può dare a questa campagna elettorale? Penso l'emergenza di valide professionalità possa contribuire in maniera attiva e fattiva alla rinascita della nostra città. Non solo chi ha fatto politica ha le competenze per poter lavorare.